Faccia senza problemi, è più bravo Valdasso a sfruttare l'indecisione, l'intentativo di portare a casa un fallo Appena abbiamo un buon tiro, anche in transizione, proviamo a prenderlo Mentre Melli riappre, Valdasso che segna un'altra bomba dalla stessa posizione da cui aveva segnato la prima Quarto punto di nuovo dalle mani di Gerian Grant Valdasso, palleggio, arresto, tripla e terzo canestro da tre Cambiano Valdasso e Bentil Pronto di Tarcespi, Valdasso con il palleggio, arresto e canestro Valdasso, tanti minuti oggi concessi da Messina Valdasso prende la tripla e segna la quarta bomba della sua serata Praticato un po' nel primo quarto, marcato da Melli Poi è riuscito a mettersi in questo match, Valdasso ancora